Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Allora, oggi si parla di tre cose. Prima di tutto, conferenza stampa e presentazione di Vincenzione, nostro nuovissimo, giovanissimo, brillantissimo e promettentissimo allenatore. Secondo, addio di Antonioni alla Fiorentina, quindi separazione totale. Terzo, calcio e mercato, una bombazza. Successo tutto in 24 ore, veramente, tutte queste tre cose nelle ultime 24 ore. Alcune delle quali sono ormai ben note, o comunque si sapeva era già nell'aria. Uno invece è una bomba al ciel sereno che adesso, insomma, ne parleremo. Molti, ovviamente, hanno già intuito la mela. Spoiler subito, bam! Allora, prima di tutto, conferenza stampa e presentazione di Vincenzione. Vincenzione, io ti dico la verità, sapevo che era una persona molto stimabile, sapevo che era una persona con la testa sulle spalle, ma ieri mi ha toccato e sorpreso particolarmente. Perché? Non l'ho vista tutta in diretta, perché stavo lavorando, però me lo sono rivista, me lo sono riletta, ho visto, diciamo, gli spezzoni, gli highlights, no? Di questa presentazione e francamente mi ha sorpreso in positivo. Io pensavo, siccome per com'è andata, per com'è arrivato, per tutte le decissitudini che ci sono state nelle ultime settimane, pensavo fosse un allenatore che un po' si accontenta, no? Dice, ok, ho fatto il mio upgrade di carriera, ok? Con tutto il rispetto, ovviamente, per lo spezzo e di tutte le società che ha allenato fino adesso. Però, ho fatto il mio upgrade di carriera, bene, io mi accontento, mi danno anche una squadra scalcinata, a me va bene lo stesso, perché tanto sono contento così. No, lo vede una persona molto ambiziosa, chiaramente non è che arriva e come quell'altro, quello così che arriva e fa, oh, voglio questo, questo, questo e questo, perché magari non c'ha nemmeno l'esperienza per farlo, non c'ha nemmeno, diciamo, anche l'autorevolezza, forse, passatemi il termine, per poterlo fare. Quindi, chiaramente arriva e non è così pretenzioso. Però sa già, sembra che, sappia già in che direzione vuole portare la sua squadra. Poi, vediamo la sua squadra quale sarà, perché poi è impensabile avere tutti questi giocatori a disposizione ed è impensabile, mi auguro, che non arrivino nuovi, nuovi volti, no? Nella Fiorentina, anche molto validi. Quindi, chiaramente se questo deve essere, se l'obiettivo deve essere ambizioso, è un pochino, ha un pochino zoppicato, è un pochino inciampato sulla domanda un po' incalzante, quale sarà la posizione della Fiorentina del prossimo anno? Chiaramente lui non lo può sapere adesso, ragazzi. Non poteva rispondere a una domanda del genere. Quindi, forse se l'aspettava, però l'ha un pochino preso in controtempo. Chiaramente una parte che mi ha, è un passaggio che mi è piaciuto molto, è quando lui ha detto, io voglio prima di tutto dare un'identità a questa squadra. Ecco, non è che ha detto, io voglio arrivare in Europa, voglio, voglio far, non so, consacrare Vlaovic e quant'altro. Io voglio dare un'identità. E questo, ragazzi, secondo me è la cosa più importante di tutti, perché senza un'identità di gioco, senza un'identità di squadra, le squadre veramente vanno allo sbaraglio. E lo si è visto, lo si è visto negli anni scorsi, anche nelle passate, nelle recenti stagioni, insomma. Quindi, bene che lui si sia focalizzato come prima cosa su questo punto. Un altro passaggio che mi è piaciuto molto è il fatto che molti parlano sempre, io voglio far divertire il pubblico, io voglio che la gente si diverta. Lui ha detto, io voglio che i miei giocatori si divertano. Questo passaggio a me è rimasto veramente impresso, perché vuol dire che lui lavora molto sulla squadra, sul singolo giocatore, sul gruppo. E questo, badate bene, se te riesci a lavorare bene all'interno, dico una banalità, chiaramente questo si ripercuote anche sul campo. Ovviamente, poi, diventa divertente, se si divertano loro diventa divertente anche per noi spettatori. Poi, siamo d'accordo, ragazzi, io preferisco rompermi le scatole a ogni partita e vincerle, che divertirmi e dire, ah che bello, che bello, e poi se ne vince una. Questo siamo d'accordo. Però è anche vero che Firenze ha anche bisogno di un pochino di brio, un pochino di divertimento. Quindi, era già stato richiamato Montella per questo scopo, non ci è riuscito, magari Vincenzo Italiano, Vincenzone, invece che Vincenzino, riuscirà nell'intento. Comunque, molto bene. Speso ottime parole per Firenze, quindi grazie. Spese ottime parole anche per alcuni giocatori, come Vlaovic. Non può che far bene. È partita bomba, non so se guardate le storie su Instagram della Fiorentina, sono partiti veramente a bomba con gli allenamenti, tanto possesso palla, giro palla, tiro in port, mi piace. Insomma, però adesso non posso che dire cose positive nel suo conto. Poi vedremo. Capitolo 2, ragazzi, separazione tra Fiorentina e l'unico 10, Giancarlo Antonioni. Allora, io vi dico subito quello che ho sempre detto a chiunque me lo chiede. Allora, Giancarlo Antonioni per me è una bandiera, ma non una bandiera. Cioè, lui dovrebbe sventolare proprio sulla torretta, ma dovrebbe esserci due bandiere, la bandiera della Fiorentina e la bandiera di Antonioni a sventolare. E va bene. Però ragazzi, questo spesso non basta, perché purtroppo lui era in una società dove fondamentalmente il ruolo che aveva, qual era? Uno dirà, ma lui doveva essere più vicino alla squadra, doveva essere più vicino al DS, perché è un grande conoscitore di calcio. È vero. Però lui dall'inizio non gli è mai stato ritagliato questo ruolo. Quindi hai voglia di dare la colpa solo all'ultima società, ma in realtà anche da quando fu preso non gli è mai stato dato un ruolo vero e proprio. Cioè, lui, se mi dici qual era, quale fosse il ruolo di Antonioni nella squadra, io non ti so rispondere. Perché sì, stava insieme ai giocatori, sì, probabilmente ogni tanto dava anche qualche indicazione sugli acquisti, sugli eventuali acquisti. Però poi, alla fine, era proprio sempre fermo in questo limbo che non sapevi bene dove collocarlo. Forse quest'anno, se ne sono accorti, gli volevano dare un ruolo specifico che però era considerato troppo piccolo per lui, gli stava troppo stretto e quindi ha deciso di allontanarsi. Mi dispiace perché, ripeto, per me è una persona, un personaggio che assolutamente dovrebbe stare all'interno della Fiorentina e spero che torni a bazzicare lo stadio e l'ambiente. Questo non c'è dubbio. Mi sarebbe piaciuto sicuramente vederlo molto più vicino a un ambiente di calcio, nel senso a parlare di calcio, a consigliare sul calcio, su quelle che possono essere alcune scelte, però probabilmente non è stata ritenuta necessaria la sua figura. Questo io purtroppo, ragazzi, vi posso dare una mia opinione, però questo lo dirà il campo, lo diranno i risultati. Sicuramente con Antonioni comunque hai rischiato di retrocedere, anche se c'era lui. Probabilmente se lui avesse avuto più voce in capitolo, magari no, o magari sì. Quindi la storia, ragazzi, coi se e coi ma, lo sai che non si fa. Quindi a voglia dirlo, mi dispiace sia come persona, sia per quello che ha dato a Firenze, che adesso sia lontano, si siano divise le strade. Si parla di un avvicinamento per la Nazionale, quindi speriamo che, insomma, almeno sulla Nazionale possa dire la sua. Terzo, il bombarolo, il bombazzo è Eric Lamela, quindi un giocatore che sembra molto vicino la trattativa, molto calda con il Tottenham per poterla portare a Firenze. Chiaramente io, se arriva Eric Lamela, ragazzi, cioè cappellino, perché ormai è di rigore a Firenze, sciarpina il collo e si porta a macchina e si porta a fare un giro a Firenze, si dice benvenuto. Questo assolutamente. Però c'è anche da dire, se vogliamo fare lucidi, che bisogna vedere come poterlo posizionare. No, cosa serve? Come poterlo posizionare? Perché ora te hai comprato Nico Gonzales, tu ci hai investito una barcata di soldi e che, mi auguro, possa far titolare, insomma. Poi te hai richiamato Sottil perché il Cagliari te l'aveva riacquistato e te l'hai riacquistato ancora un'altra volta, scusate questi termini poco chiari, e più c'hai un Kwame che fino a prova contraria è in rosa. Fino a prova contraria non sai ancora bene come collocarlo, quindi potrebbe fare anche l'esterno del 4-3-3 che dovrebbe essere il ruolo che il Vincenzone italiano dovrebbe prediligere, quindi potrebbe fare anche l'esterno alto, non lo sai. Più c'hai Kai Eon. Nessuno se lo ricorda perché questo non ha fatto neanche un'apparizione, ma c'hai un altro di spessore, di caratura anche internazionale come Kai Eon, che fino a prova contraria, ragazzi, questi sono tutti in rosa. Poi, siamo d'accordo, te fallo venire la mela e poi se ne parla di come mettercelo. Però è anche vero che si continua purtroppo a ragionare più a figurine che in termini tattici, perché o veramente te sai di cui è il 31 agosto chi tu manderà via, dici ok, allora Kwame va via, Kai Eon va via, benissimo, io mi fò Nico Gonzalez e Vlaovic e a destra se la battono Sottil e la mela. Allora va bene, siamo tutti chiari, però fino adesso, fino a prova contraria, te ancora c'hai un esubero di questi giocatori. Quindi vediamo, insomma, vediamo. Altra cosa per finire, si parla di questo 4-3-3 di italiano, anche lui ieri l'ha ribadito, insomma, nella sua conferenza stampa, che è il suo modulo ideale. Allora, questo 4-3-3 è ottimo, è divertentissimo davanti, e anzi è il mio modulo, ve lo dico, preferito in assoluto da sempre, anche perché poi ci ho visto giocare gente come Mutu Vargas, Girardino, quindi insomma, lasciamo stare. Però c'è anche da dire che te adesso non hai il centrocampo per giocare a 3. C'hai la difesa, magari la puoi far giocare a 4 tranquillamente. L'attacco per giocare a 3 ce l'hai, ma il centrocampo, Castrovilli, Ambra Vatte e Pulgar non sono da 3 a centrocampo. Come li metti? È questo un casino, ragazzi. Bisogna vedere, secondo me, 2 di questi 3, segnatevelo ora, 2 fra Pulgar, Ambra Vatte e Castrovilli se ne vanno. Ma ve lo dico soprattutto se veramente la Fiorentina un domani, cioè di qui a un mese, vorrà investire su giocatori magari importanti, dove il cartellino costa anche abbastanza, o lo stesso stipendio. Quindi secondo me 2 di questi 3 se ne vanno. Ragazzi, ditemi la vostra su tutte e 3 questi punti, soprattutto voglio sentire la vostra su Antonioni, perché voglio condividere anche il vostro pensiero e chiaramente sul bombosso di calciomercato, ma anche su che impressione vi ha fatto Italiano. Quindi dai, tutte e 3 dai, commentatemi tutti, iscrivetevi al canale, lasciate un mi garba se vi è garbato i video, un non mi garba se non vi è garbato e seguitemi su Instagram. Mi raccomando, ci si vede al prossimo video. Forza Viola e JM. Ciao!